ciao benvenuti a cazzeggio catabiotico ciao a tutti bentornati ad un nuovo episodio di cazzeggio catabiotico in questa puntata parleremo di UFO UFO di prodotti da militari terrestri in particolar modo nella bloggata che trovate linkata nella descrizione del video di youtube c'è una breve conferenza online di un esperto di progetti segreti che parla in inglese circa lo stealth TR-3B del 1975 non è altro che praticamente un mongolfiera o comunque un dirigibile c'è infatti collegata al link che vi ho posto in descrizione su youtube un bel testo gratuito della NASA, della CIA e della NSA del 1975 intitolato Proceedings of the Interagency Workshop of Lighter Denier Vehicles praticamente si tratta di un testo veramente molto interessante da leggere dove ci si può ritrovare tantissimi casi ufologici che i poveri gonzi della ufologia classica spacciavano per oggetti alieni invece si tratta di mezzi molto molto terrestri relativi al più leggero dell'aria lungolfiere, dirigibili e quant'altro a differenza del più pesante dell'aria che sono praticamente gli aeroplani propulsi ad elica, a jet, a reazione e quant'altro ciao alla prossima ciao ciao ciao